Buonasera dal villaggio Coldiretti, siamo a Napoli, naturalmente una bellissima occasione siamo nel lato della Campania, ma ci sono tutte le regioni, c'è una grandissima attenzione e la voglia anche di mettere al centro la nostra qualità, i nostri produttori, le nostre eccellenze Buonasera di nuovo, sono presenti tutte le regioni, la regione Campania accompagna questa bellissima iniziativa io mi voglio ringraziare Coldiretti, nazionale, ma naturalmente tutte le regioni in particolar modo la Campania, un abbraccio speciale al mio amico Enzo Tropiano, il direttore di Coldiretti Salerno Ettore Bellelli, presidente Campania di Coldiretti location bellissima tra l'altro, voglio dirlo, la facciamo vedere, ci sono migliaia di persone lo abbiamo già detto, arrivano da ogni angolo d'Italia, qui l'ho già detto ancora, siamo in Campania non potevamo non raccontarvi questa esperienza proprio da qui, dalla Campania con uno sguardo, consentitemi, il cuore è sempre in provincia di Salerno e quindi chiaramente uno sguardo particolare ai nostri agricoltori che sono veramente il fiore all'occhiello del nostro territorio, della nostra regione un lavoro importante sul quale dobbiamo in qualche modo lavorare ancora, investire con grande attenzione, con ascolto, con investimenti, ma veramente questa è un'occasione incredibile che dobbiamo cogliere ed è bello vedere anche migliaia di persone vedere, toccare con mano le nostre realtà, è prezioso perché siamo nel cuore di una delle città più importanti del mondo, che è Napoli e sapere che l'Italia si riunisce qui con Coldiretti e sapere che ci sono le nostre eccellenze è una vetrina importante perché ci consente di arrivare al consumatore, all'addetto ai lavori è davvero importante tenere insieme tutti questi elementi che rendono speciale l'evento ma che ci danno una grande occasione di visibilità ovviamente se vi va saranno tre giorni, credo fino a domenica, si continua fino a sabato sera per l'entusiasmo delle aziende, avrete notato la stanchezza importante arriva anche la stanchezza, immagino anche per chi lavora poi insomma il momento espositivo diventa un momento di lavoro ancora più importante ma allo stesso tempo, come dicevo poco fa, prezioso perché è un elemento di grande visibilità e qui esponiamo così in rappresentanza, in rappresentanza, facciamolo vedere eccoci qua, facciamo vedere qua siamo ancora a Salerno, devo dire, regione Campania poi abbiamo ancora, in questo caso, la provincia di Napoli a destra c'è Caserta, Napoli, Nuovo e poi c'è ancora Salerno vedete la Campania ben rappresentata la passeggiata è lunga perché il villaggio è veramente molto grande e quindi siamo felici di essere qui, felici di ospitare come regione Campania questo straordinario appuntamento, tra l'altro il Presidente De Luca interverrà da qui a breve nella main room, nel padiglione, quello dei convegni grazie ancora per averci seguito appuntamento è qui a Napoli per ospitare le grandi eccellenze italiane con uno sguardo molto importante, molto prezioso alla nostra bellissima regione Campania grazie